Musica Perché per voi Federico è un riferimento? Volete diventare come lui? Beh sì! Federico Pellegrino non è soltanto un campione, è ormai il mito di tanti ragazzi che sciano e che vorrebbero come lui vincere delle medaglie in futuro. Io ho scelto Federico Pellegrino come riferimento perché è partito dal basso come noi ed è arrivato in alto, nella nazionale, alle olimpiadi, quindi è un esempio. Qual è il vostro sogno? Diventare come Federico Pellegrino. Sì, cercare di raggiungere anche i suoi obiettivi. Sabato scorso tantissimi erano in piazza Nus, soprattutto dello sci club del campione. Ho fatto parte dello sci club di San Marte del Minch. Ho scelto di un'ora. È migliore. L'intero paese era in festa per celebrare la stagione 2022-2023 del campione. La stagione è stata una super stagione e quindi è bello essere qui adesso a celebrarla. Chico Pellegrino porta a casa quest'anno tra le altre due vittorie importantissime, quella di Davos e di Dobbiaco, ma la sua gioia più grande è stata l'arrivo del piccolo Alexis. Sei diventato papà da poco. Proprio per il fatto che durante questa stagione era previsto l'arrivo di un bambino, non sapevo proprio cosa aspettarmi. E alla fine è proprio questo il motivo per cui tutto ciò che è arrivato è un di più. Sicuramente se voi continuate a spingermi, io continuerò a mettercela tutta. E allora una spinta fatta da questa piazza per Chico Pellegrino.